E' già partito il countdown dei 10 secondi, pronti allo scoppio? Il tempo non è che sia dei migliori, c'è un vento forza 8 da sud verso nord e non promette nulla di buono, ma noi abbiamo un grosso pilota, un grande pilota, un grandissimo pilota, speriamo per noi, che farà decollare questo mini Piper, si può chiamare Piper o Aliante, anche Aliante si può chiamare. Pronto? Vai! Vai te che vieni! La fine una batteria! La fine una batteria, Christian! Ehi, Christian! Dio, vedete! La fine una batteria, Christian! La fine una batteria, Christian! La fine una batteria, Christian! Ehi, dovresti abbassarti un po' per fare... E ho capito che sia capace, ma se lo fai vedere anche noi... Che non si vede, che contro luce lì non si vede niente, Gisni! Sta più basso! Stai di là! Che non riesci a farlo di là, volare? Che cacchio è andato! Eh, non è faccia seguirlo! Adesso è... Eh, cacchio! È troppo veloce! Vediamo con questa... Il prezzo coppio qua non si vede, come mai? Sì! Dai che adesso va! Non te vedo! Si è massimo sfuggente! Che cacchio! Sì! Non riesci a fare un passaggio lento, così... Tipo G222 e roba del genere, no? Ho capito io! Ho aria, no? È difficile stare dietro se tu fai evoluzioni... Cerca di rimanere insieme nella stessa traiettoria, sennò... Ficca se è facile a tenere... Eh, non è facile a tenere qua con il vento, no? Vedete qua la fisca del vento! Adesso riesco a vederlo un po'! Che cazzo è! Anche perché è bianco non si vede niente! No, non ci vediamo! No, no! No, no! No, no! No, no! Adesso dovevo andare a finire... Si è massimo lontano, no? io avevo preso il gabbiano che non lo c'è in fondo e invece lui è qua il gabbiano che ce lo vive in fondo si mangia lontano qui sta bene vicino ma cacchio non so niente non so niente non so niente vedere con questo qua devo prendere solo con questo qua armo lì bravo lana lana di che vuoi lana di avaro lana di avaro